Vangelo del giorno, 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù, dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè e Maria, Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombe come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza aver veduto prima il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il Vangelo di questo giorno di festa, la festa della presentazione di Gesù al Tempio o della purificazione di Maria, comunemente riconosciuta come la festa della Candelora, inizia con questa notizia storica che ci dice cosa avveniva quando nasceva un figlio maschio, il primo genito maschio. Trascorsi i giorni, i 40 giorni, veniva presentato al Tempio per essere riscattato perché era consacrato al Signore e in cambio, abbiamo letto, si offrivano una coppia di giovani tortore o di giovani colombi e poi c'era la purificazione rituale della donna perché a motivo del parto era considerata impura per la perdita del sangue. Ecco, questa è la festa della presentazione e Giuseppe e Maria portano Gesù al Tempio. Perché festa della Candelora? Il profeta Simeone parla di Gesù come luce che deve rivelarsi alle genti. Gesù, luce del mondo. Ecco, in questo giorno si accendono, si benedicono le candele, simbolo di questa luce alla quale noi sempre dobbiamo guardare e sempre dobbiamo fare in modo che questa luce, la luce del Signore, splenda nella nostra vita e ci ricordi che anche noi dobbiamo essere luce che illumina le tenebre di questo mondo. E allora, pensando a questo giorno, pensando a questa festa, dobbiamo noi scegliere ancora una volta di essere luce, di scegliere la luce, di scegliere Cristo nella nostra vita. Ecco, noi oggi facciamo questa confessione. Io scelgo te, Signore, come luce della mia vita. Buona festa a tutti voi! Ed è anche la festa di tutti i consacrati, quindi preghiamo in questo giorno in modo particolare per tutti i sacerdoti, per tutti i consacrati e le consacrate.